Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 20 maggio del 2020. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata a quest'ora. Come sapete la zuppa di porro la faccio la mattina e con la lettura dei giornali non si può ancora sapere cosa sarà successo alla mozione di sfiducia che ce ne sono due di mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia Bonefede. Ne parleremo tra poco perché il titolo secondo me più interessante riguarda quel famoso fondo europeo da 500 miliardi che dovrebbe aiutare a riprendersi l'Italia, la Spagna, i paesi più colpiti dall'emergenza. E quell'accordo che c'è stato tra francesi e tedeschi che hanno sostanzialmente fatto due cose una specie di generosa apertura nei confronti delle richieste del recovery fondo italiano ma soprattutto anche hanno ristabilito che in Europa senza di loro non si va da nessuna parte. Eppure oggi il Corriere della Sera nella sua prima pagina dice scontro sul fondo europeo. Lo scontro è semplicissimo perché ci sono una serie di paesi nordici e anche di alleati tedeschi tipo l'Austria che di questo fondo da 500 miliardi non ne hanno la più pallida volontà. Questo se così fosse renderebbe completamente ridicola la pretesa italiana di aver fatto grandi passi avanti sul recovery fund ma soprattutto la cosa più interessante sarebbe che ci sarebbe una spaccatura veramente fenomenale all'interno dell'Europa. Nel frattempo mentre questo fondo è soltanto annunciato dai franco tedeschi c'è bisogno che si occupi la Commissione europea non si riesce a capire l'entità. Alcuni oggi continuano libero a sostenere che non sono a fondo perduto il centrodestra dice che non sono soldi a fondo perduto c'è il vice ministro dell'economia Laura Castelli che evidentemente ben consigliata dalla finanza che le sta diciamo accanto nei palazzi del potere già spiega che all'Italia arriveranno di questi 500 miliardi 100 miliardi! Allora ancora non c'è il fondo l'Europa non è d'accordo non sappiamo quanti saranno e quali condizioni saranno ma lei dice che ci saranno 100 miliardi e questi 100 miliardi varranno per il turismo per il Made in Italy, per la ristorazione tutto quello che volete voi ha perfettamente ragione la Castelli ma la cosa straordinaria dice però bisogna fare presto perché devono arrivare a settembre io li trovo straordinari è quella che disse a Padua ma questo lo dice lei e mi verrebbe di dire gentilmente alla Castelli questo lo dice lei cioè ma ragazzi ma questi sono fa l'intervista parlando di fondi che ancora l'Europa non ha deciso non sappiamo come sono e li vuole a settembre quando invece i cazzetti nostri cioè i nostri decreti sono di là da venire toc toc c'è gente che non ha ancora preso 600 euro caro vice ministro Castelli invece di prendertela diciamo in fretta con questi governi europei che evidentemente avranno i loro tempi da decreti di guidità 25k non sono arrivati 600 euro non sono arrivati la cassa integrazione in deroga non è arrivata e tu chiedi e pretendi che è un fondo europeo cioè che ci regalino 100 miliardi ma velocemente ma pensa intanto a vedere quello che riesce a fare con i soldi nostri mi verrebbe da chiedere a questo governo evidentemente oggi il sole 24 ore non è stato letto lì dalle parti della finanza del ministero del tesoro dice il sole 24 ore il disegno di legge il decreto legge sul rilancio che peraltro ci ha messo già una settimana per essere bollinato poi dovrà essere approvato il Parlamento poi dovrà essere convertito in legge poi ci dovranno essere gli emendamenti ci sarà tutto al trick e track che conoscete beh il disegno di legge il decreto legge sul rilancio prevede 98 decreti attuativi 98 decreti attuativi Gualtieri sostiene che i 600 euro per il mese di aprile cioè abbiamo preso quelli di marzo arriveranno quelli di aprile arriveranno in due o tre giorni per chi li ha presi molti non li hanno presi per maggio cambieranno le regole perché ci sarà e si dovrà dimostrare per avere i 1000 euro non più 600 la perdita del fatturato e per quanto riguarda il fondo perduto per i negozianti dovrebbe arrivare a giugno tutto dovrebbe perché in realtà tra quello che scrivono e quello che fanno poi ne passa moltissimo cosa succede? tutto vero tutto giusto però il punto fondamentale è che le professioni come al solito lo nota oggi anche se in una sola riga perché sulle 24 ore non è esattamente il giornale delle professioni è più dell'industria degli autonomi ma delle professioni se ne sbattono abbastanza anche se un tempo era il grande giornale delle professioni lo è oggi se volete di più Italia oggi ma comunque dice le professioni vengono fottute cioè mentre è il solito è il solito ragionamento diciamo se sei dipendente pubblico riporti a casa dopo la pandemia il 100% perché niente lockdown congedi parentali pip e mazzi se sei un dipendente privato cerchi più o meno di portarti a casa l'80-70% di quello che è successo con rischio però del licenziamento se sei un autonomo o un professionista prendi il 20% di quello che semmai hai perso nell'ultimo periodo tesi di Zanetti che io condivido al 100% tra l'altro vi segnalo che sempre il sole 24 ore ci racconta quante delle come siamo delle norme fatti per aiutare le imprese insomma le norme covid siano state attuate il 28% cioè verranno attuate quando il covid sarà finito poi un'altra questione che mi fa impazzire di questi tempi è quanto il giornale unico del virus resista sotto le ceneri per farvi come possiamo dire per farvi avere un po' di strizza come si dice a Roma la movida dei ragazzi tutti quanti arrabbiati con questa movida dei ragazzi io dico ai ragazzi fate bene a fare la movida fate bene che dovete morire a casa cosa dovete fare dovete stare a casa a far che cosa perché i ragazzi non possono uscire qual è il motivo per il quale un ragazzo lo fanno prudentemente molti di loro sanno che prendono un rischio più che calcolato perché un ragazzo la malattia non se la prende se se la prende è asintomatica e nel 99,9% dei casi non ha nessuna conseguenza mentre noi se vogliamo drammatizzare e mettere paura ai ragazzi facciamolo la movida ti stai prendendo lo spritz gli stessi che peraltro lo spritz se lo prendevano quelli che ci devono governare dicendo riunite ma questo è un altro discorso Nord torna la paura dice il fatto sì quanto sarebbero contenti che aumentassero un po' i contagi i contagi in realtà sono aumentati sapete quanti sono? 813 813 contagiati in Italia 450 in Lombardia 813 gli ospedalizzati calano i morti calano i contagiati i contagiati in questo momento non voglio dire nulla perché il contagio si cura il contagio non porta i sintomi il contagio non porta la morte vogliamo tutti quanti morire moriamo di fame come volete voi i ragazzi teniamoli a casa a far che cosa dopo tre mesi mi viene veramente il sangue al cervello però ovviamente io trovo tanta gente che dici sei un imprudente sì state tutti a casa state tutti a casa mettetevi la mascherina se volete stateci a casa se io voglio uscire esco va bene? questo io penso che sia normale in un paese in cui si dà la responsabilità agli individui e non ha speranza e buona fede ministro della giustizia oggi il ministro della giustizia ha una mozione di sfiducia anzi ne ha due in questo c'è ragione Travaglio nel suo fondo di oggi perché una mozione di sfiducia è fatta dal centrodestra che accusa di aver fatto uscise troppi briganti dal carcere in particolare 500 boss mafiosi la seconda mozione di sfiducia è invece della Monino che dice che ne ha fatto uscire troppo pochi perché diciamo è una mozione di sfiducia più garantista il punto fondamentale che Travaglio non coglie è che quindi siccome ci sono due mozioni di sfiducia che dicono una cosa una l'altra buona fede non ha sbagliato buona fede è imbarazzante è imbarazzante sia da un lato sia dall'altro si sostiene l'unico ministro della giustizia del mondo che quando vengono scarcerati 500 boss mafiosi ovviamente il giornale dei manettari dice che non è colpa sua non è più colpa sua è prima capo del DAP che viene licenziato poi è capo del gabinetto che viene licenziato poi è capo degli ispettori che viene licenziato poi è capo di un altro del DAP che viene invece raccomandato poi è capo del DAG che viene raccomandata cioè come ti giri questa nuova identità del Movimento 5 Stelle con il suo ministero pulito fa sì che tutti quanti i suoi uomini più vicini se ne vadano via e che vengono scarcerati 500 boss ovviamente non è colpa di Buonafede oggi quello che succederà lo dice Sallusti non potrà accadere Buonafede perché è l'inventore di Conte e perché è il capo delegazione del Movimento 5 Stelle del governo quindi mettetevi l'anima in pace se così dovesse essere veramente sarebbe incredibile poi l'altra questione invece che pone il foglio dal punto di vista completamente opposto rispetto a quello del giornale di Sallusti dice Buonafede rimane perché noi ci dobbiamo turare il naso perché questo è un governo che funziona e arriveremo in una crisi beh d'altronde lo sapete nel frattempo tutto il pasticcio del CSM con questi magistrati che si raccomandano l'uno con l'altro lo racconta sempre molto bene la verità leggetevelo se siete appassionati io lo sono il vice presidente del CSM Ermini figlio di un accordo tra Palamara e Ferri cioè tra le correnti del CSM quelle che tanto non piacciono dicono attaccano me per colpire il CSM e caro Ermini toc toc hanno colpito un anno fa per colpire il CSM si sono dimessi cinque cioè spiegami questa logica se colpiscono te colpiscono il CSM se colpivano un anno fa hanno ucciso cinque persone del CSM che guarda caso non erano di sinistra ma erano moderati quando attaccano i moderati va bene quando attaccano quelli di sinistra come te non va bene attaccano l'istituzione è straordinaria questa storia sono stato scelto dalle correnti ma sono imparziale altra decisione di Ermini sono stato scelto delle correnti ma sono imparziali qualcuno li potrebbe obiettare i suoi amici talebani ma se insomma ti ha scelto qualcuno delle correnti come si fa a essere imparziali e non rispondere a quello che ti chiedono le correnti come per la verità tutte le intercettazioni ci raccontano nel frattempo la storia del procuratore capo di Taranto è straordinaria arrestato ai domiciliari ieri perché è la cosa più disgustosa se fosse vera che si possa immaginare degli imprenditori pugliesi avrebbero denunciato per usura un loro concorrente e questo capristo con altri magistrati e poliziotti avrebbe fatto sì che questo concorrente sembrasse veramente un usuraio per toglierlo dal mercato se così fosse questo è un omicidio di impresa privata non c'è nulla di più orribile da parte di un magistrato di un poliziotto che uccidere commercialmente una persona con una falsa accusa per avvantaggiarne un altro ovviamente decideranno i giudici così come quando Capristo racconta Luciano Capone oggi sul foglio era giovane procuratore a Trani incappò in un'altra identica diciamo fase come si chiamano dire equivoco di corruttela fu prosciolto lo stesso Capristo ve lo ricorderate ce lo ricorda Capone fece per vent'anni passare le pene per l'inferno attraverso la costruzione di accuse assurde nei confronti del procuratore del Petruzzelli Pinto che poi fu prosciolto perché sembrava che fosse stato lui a fare incendiare o suoi amici fare incendiare il Petruzzelli insomma il punto che pone Capone oggi sul foglio è un altro dice ma come è possibile che il CSM questo l'ha promosso così tante volte l'ha tenuto sempre in braccio lo ha sempre elevato come un grande procuratore con tutti i casini che ha combinato Corrado Augias scuole paritarie è sempre la solita storia qua si trovano 3 miliardi per l'Italia si trovano i soldi per tutti quanti ma le scuole paritarie sono considerate una mafia cioè il fatto che esistano in Italia e io gli sono grato dei professori dei maestri e delle istituzioni che stanno scomparendo come ci racconta Monia Alfieri il suo ormone Alfieri ce lo racconta da tante parti anche sul nostro sito insieme a Desiderio stiano morendo le scuole private che danno pluralità di informazione e rendono molto più economico l'istituzione in questo paese bene nel momento del disastro non è che chiedono finanziamenti chiedono la possibilità per chi va in una scuola paritaria di avere un piccolo credito d'imposta e cosa dice Corrado Agios non lo prevede la Costituzione e ci fa un grande pippozzo da bel comunistone come lui per quale motivo la scuola italiana deve essere pubblica e poi dopo ovviamente ci sono quelli come loro che la scuola pubblica ce l'hanno sotto casa con i loro maestri perché ci sono delle scuole pubbliche eccellenti però la scuola pubblica eccellente sarebbe ancora più eccellente se ci fosse un po' più di concorrenza cosa che è molto difficile far capire ai comunisti ma questo è un altro discorso che ci ha spiegato Friedman Antiseri e tutti quelli che ci hanno insegnato che il buono scuola è l'unico modo per aiutare i più deboli ad avere un'istruzione che li possa rendere un po' più forti continuiamo con la scuola pubblica continuiamo con Agios e continuiamo con quello che quelli che parlano bene dicono un ascensore sociale che non sale mai perché il semplice motivo che la scuola pubblica purtroppo spesso non funziona è quella privata non se la possono permettere i poveri per il semplice e banale motivo che la dovrebbero pagare due volte aiutare la scuola paritaria vuol dire aiutare i più deboli ma questo toc toc i comunisti non lo capiscono sul codice degli appalti c'è una notizia che oggi cita come si chiama la stampa di Giannini perché sarebbe pronto un piano quello di Conte con un decreto legge per svoltare gli appalti in Italia anche le opere piccole potrebbero essere aiutate da questo nuovo codice perché ci sarebbero come si dice trattative private tutto quello che vedrete farà un gran casino nei giornali giustizialisti alla capristo alla fatto a quelli che ci hanno raccontato alla buona fede che ci terremo come ministro per i prossimi mesi allora qua continuano a chiamarmi gente sul mio cellulare non sapendo che a quest'ora io faccio la zuppa vi do un abbraccio e vi saluto come sempre e a domani ciao